Vini austriaci, posso presentare in Italia, gli italiani scoperto, scoperto i vini di Ostria. Abbiamo Grüne Vettrina, molto buono, gli italiani piace Grüne Vettrina e Riesling, e un'altra varietà autochtona come Zierfandla, Rotgipfler e Zweigl, Franconi e Blaufränkisch. I vini austriaci molto freschi, ha un po' più mineralità, ha un po' più acità, ha un buon profumo, e un buon vino per mangiare, perché è molto fresco, molto aromatico e abbiamo una particolare parazione.